molte donne mi chiedono come sedurre un uomo ecco che esistono alcune regole base a cui attenersi alcuni aforismi fondamentali su come fare per sedurre un uomo intanto presenta questo non è l'attrazione sessuale che seduce intendendo con seduzione la capacità di coinvolgere a livello profondo a livello emotivo l'attrazione sessuale può produrre una seduzione di natura sessuale ma questo non significa che dopo l'uomo vuole intraprendere una relazione vuole avere un rapporto profondo duraturo nel tempo e quindi possiamo dire che il primo aforismo è che il sesso può essere un'ottima esca ma non è sicuramente l'amo e l'esca la donna deve come dire fare intendere che diciamo a una sessualità prorrompente con la quale potrà soddisfare le esigenze maschile ma non soddisfarle perché il coinvolgimento si produce amplificando un desiderio non soddisfacendolo e non dovete neanche preoccuparvi di dire beh ma lui ci si cercherà qualcun altro si cercherà probabilmente qualcun altro per lo stimolo sessuale diciamo ma questa non lo farà sicuramente innamorare perché per far innamorare serve un coinvolgimento profondo quindi primo punto utilizzate l'esca sesso come creare delle aspettative di perché tenete presente che gli uomini si innamorano desiderando di fare l'amore non facendo quindi questo è il primo punto fondamentale il secondo punto fondamentale è quello di andare a innestarsi sulle esigenze emotive quindi cogliere quelle che sono le esigenze emotive delle persone capendo la sua comunicazione non verbale spesso accade anche che le esigenze emotive siano esattamente il contrario delle esigenze logico razionali quindi qualora le esigenze emotive fossero al contrario delle esigenze logico razionali dovete imparare a dare un colpo al cerchio è un colpo alla botte cioè apparentemente gratificare le esigenze emotive ma di fatto poi penalizzarle apparentemente soddisfare le esigenze logiche ma di fatto poi penalizzarle faccio un esempio supponiamo un uomo che abbia il desiderio di che ne so avere un rapporto fisico con una donna ecco che da un punto di vista logico di tele si guarda mi piacerebbe tanto avere con te ogni volta che ti vedo sento battere il cuore sento una sensazione forte un'eccitazione che mi verrebbe voglia di saltarti addosso però nel momento in cui lui poi ci prova beh no però sa io sono una donna di altri tempi ho bisogno delle mie esigenze mentre fate questo poi magari lo stimolate cercate di entrare in contatto fisico ma senza mai eccedere troppo poi se ad esempio la persona capite dalla sua comunicazione non verbale che ha si aggancia sull'abbandono emotivo e lui quindi invece però da un punto di vista logico manifesto di volere essere presente con una persona allora date di questa gratificazione logica di no a me piace molto quando sto con un uomo coccolarlo dargli la mia massima disponibilità sa io sono un po gay c'ha discorsi di questo genere ma poi di fatto siate un po sfuggenti lui vi invita trovate qualche scusa sempre qualche scusa ma amplificatevi quindi il senso dell'abbandono ecco quindi che agendo in questo modo riuscirete ad ottimizzare tutte le possibilità per sedurre per coinvolgere a livello profondo l'uomo che vi interessa bene vi do appuntamento al prossimo video vi invito a seguirmi sul blog htp www.seduzionediritto.com